Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su The Division in questa primissima review recensione dedicata a un'arma della massima rarità, ossia alta gamma, quelle gialle tanto per intenderci. L'arma in questione sarà il Cassidy, nome unico per un'arma unica. Il Cassidy sarà una doppietta, sia un classico fucile a pompa con caricatori da due soli colpi. Innanzitutto, dove trovare il Cassidy? Potrà molto comodamente essere acquistato nella Dark Zone, presso un vendor in una zona sicura. Questa zona però dovrà essere prima scoperta e per farlo molto banalmente dovrete semplicemente passarci vicino, fino a quel momento non comparirà nemmeno sul radar. A schermo vi mostrerò comunque esattamente dove si trova. L'arma sarà in vendita al costo di 3085 crediti della zona nera e per poter essere acquistata richiederà di essere almeno a livello 8 e al rank 12 nella Dark Zone. Salire di livello non sarà troppo difficile. La parte ardua sarà racimolare quei crediti, anche perché, vi ricordo, morendo ne perderete una piccola parte, quindi appena ne avrete a sufficienza correte a comprarla. Ecco qualche piccolo consiglio per racimolare velocemente quei soldi. Uccidete tutti i mob che trovate, indicativamente spawnano sempre nei paraggi delle zone di interesse, ossia le zone azzurrine sulla mappa. Uccidete sempre i rog, varranno parecchio. Appena ne vedrete apparire uno sulla mappa, iniziate la caccia all'uomo. Infine potrete anche guadagnare credito nella zona nera facendo scadere il vostro stato di rog, quindi diventandolo e poi facendo passare il tempo indicato. Maggiore sarà il vostro grado e maggiore sarà la ricompensa. Naturalmente però sarà anche parecchio rischioso, quindi vi consiglierei di concentrarvi sui primi due punti. Parliamo dunque dell'arma. Il caccia di avrà dei caricatori due colpi e una cadenza piuttosto elevata tra i due. Tempi di ricarica decenti, danno elevato e naturalmente precisione, gittata e rinculo bassi. Il dps inoltre dipenderà principalmente dal vostro attributo armi da fuoco. Più sarà elevato più dps la doppietta avrà. Come vi ho poi anticipato sarà della massima rarità possibile, ossia alta gamma. Come tutte le armi di questa rarità avrà un nome unico, una skin unica, infatti non potrete modificarla, ed un talento unico che non avrà dei requisiti in termini di attributi e che quindi sarà già sbloccato di base. Questo talento unico sarà meticoloso, uccidere un bersaglio all'11,50% è di probabilità di rifullare il caricatore e su un'arma del genere è davvero un ottimo talento. Il caccia di possiede anche altre due talenti, che presumo però essere variabili. Nel caso di questa beta, questo vendors, la vende col reattivo, che fornisce un bonus del 5% ai danni quando si ha meno di 10 metri dal nemico, talento carino ma che richiede 225 come tributo di armi da fuoco e 60 di vigore, e con autorevole, che aumenterà la durata dell'abilità speciale del 7% quando si effettua un'uccisione mentre attiva, perché non ancora valutabile in quanto le abilità speciali non sono disponibili nella beta. I requisiti, comunque, sarebbero 105 di armi di fuoco e 105 di parti elettroniche. Inoltre essendo una doppietta non potrà montare mod di alcun tipo. In conclusione, il caccia di si rivela essere un'ottima doppietta, danni elevati e statistiche tutto sommato buone, risente dei caricatori di soli due colpi, che sebbene assestati tuttavia, potranno tranquillamente eliminare quasi ogni minaccia, utilizzabile senza problemi sia nel PVE che nella Dark Zone. Dunque ragazzi questa primissima review dedicata alle armi più rare e uniche di di The Division termina qui. Per il momento vi ringrazio per la vostra attenzione, spero che questo video sia stato di vostro interesse e il vostro gradimento, pertanto vi invito a lasciarmi il vostro feedback, un voto, un commento, iscrivetevi se non lo aveste ancora fatto, condividete questo video con tutti i vostri amici con cui state giocando la beta di The Division, da parte mia è tutto e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!